Prosegue senza sosta l'impegno della Polizia di Stato contro il fenomeno delle truffe agli anziani attraverso la campagna Non Siete Soli, Chiamateci Sempre. L'iniziativa si concretizza in due spot. Queste mattine il primo dei due è stato lanciato attraverso il profilo Facebook della Polizia di Stato. Nei trailers vengono mostrate le truffe più ricorrenti, come ad esempio quella tra le mure domestiche in cui i malfattori si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine o per tecnici del gas. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini ad essere cauti quando alla porta si presenta uno sconosciuto. Il messaggio che viene lanciato è semplice e preciso. Abbiate maggiore prudenza e chiamate la polizia. Sono purtroppo tanti gli episodi in cui i cittadini over 65 vengono avvicinati e raggirati. I casi registrati infatti a livello nazionale mostrano un aumento del 19% nel primo semestre del 2016 rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente.